Domani partiranno i saldi invernali anche in Sicilia. L'ONF, l'Osservatorio Nazionale FederConsumatori, stima una stagione non troppo rosa. Circa il 27% delle famiglie approfitterà delle vendite promozionali. Se aumenta leggermente il numero di famiglie che approfitteranno degli sconti, si abbassa invece la spesa media, che secondo le stime si attesta a 169,70 euro a famiglia, il 4,9% in meno rispetto a gennaio 2023. Esiste però un forte divario. Vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori a questa media, altre che non effettueranno alcun acquisto. A determinare il calo della spesa, vi sono le numerose promozioni ormai divenute abituali nel periodo prenatalizio di cui le famiglie hanno approfittato ampiamente, specialmente per i regali di Natale. Inoltre contribuisce il cambiamento climatico, che ha determinato temperature sopra la media che non aiutano a spingere al rialzo l'acquisto dei capi invernali. Oltre a ciò prosegue la situazione di difficoltà che interessa molte famiglie, costringendole a rinunce e atteggiamenti di consumo improntati alla prudenza, soprattutto in vista dei rincari che arriveranno nel 2024, che l'osservatorio ha stimato pari a oltre 1.000 euro a famiglia. Chi ha intenzione di effettuare acquisti approfittando dei saldi deve comunque tenere a mente alcune regole e raccomandazioni importanti. Il rischio di incorrere in un inganno purtroppo è sempre dietro l'angolo ed è diffusa la possibilità di imbattersi in promozioni decisamente poco vantaggiose. Il 1 luglio è entrato in vigore il decreto legislativo che impone maggiore trasparenza negli sconti di fine stagione, che era stato approvato lo scorso 7 marzo in attuazione della direttiva europea, la cosiddetta Omnibus. Le nuove regole sui prezzi di vendita si applicano sia ai negozi fisici che ai siti di e-commerce. Lo scopo della normativa è smascherare e sanzionare i commercianti scorretti che poco prima dei saldi alzano i prezzi a tavolino per poi ribassarli repentinamente e far apparire percentuali di sconto fasulle che invoglino maggiormente i malcapitati clienti. La normativa interviene sul codice del consumo introducendo nuove disposizioni. Il nuovo articolo, 17 bis, prevede l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi. Anche nel caso in cui la riduzione di prezzo nel corso della stessa campagna promozionale aumenti, il prezzo di riferimento per il periodo precedente dovrà essere lo stesso prezzo esposto inizialmente. I commercianti che non si atterranno a questa nuova regola andranno in conto al rischio di una sanzione da 516 a 3098 euro.